Ragazzi oggi arrosticini wild Iniziamo disossando il cosciotto Il pezzo del muscolo l'ho lasciato perché è troppo fibroso Togliete i nervetti e sgrassate leggermente ma non troppo Ora facciamo tutte belle fettine Ora vi faccio vedere due metodi Quello classico Disponiamo la carne pressandola bene su tutti i lati Ora mettiamo il coperchio con i buchi sopra E pressiamo E ora divertiamoci E ora questi spazi servono per tagliare la carne Prima in un verso E poi nell'altro E ora A mia moglie gli chiederò di sposarmi così E questo era il metodo tradizionale All'antica Ma dove li cuociamo ora? E ora giù ragazzi Poi dite che non sono wild Pizzico di sale Ragazzi It's wild Ragazzi alla salute E questa la dedico al piccolo Nicolò Ciao ragazzi Ciao Ciao